Mettetevelo in testa, no sì, le Olimpiadi a Roma ci sono già, le faremo noi, ci sono, c'è il salto in lungo della voragine del pensionato Ottonello che lo fa tutto, 8.02 ha fatto, 8.02 col vento contrario, c'è il patinaggio artistico sul guano, c'è l'attraversamento del sottopassaggio allagato in 14 secondi stile farfalla della signora Lina, ci sono già le Olimpiadi. Ma ha deciso lei o l'Aranji sull'Olimpiadi?